Ricorre oggi, venerdì 13 novembre, il PMI dei Industriamoci, sesta giornata nazionale delle piccole e medie imprese, organizzata da Confindustria per creare ponti tra le imprese e il mondo della scuola. La ITEL ha accolto nei suoi stabilimenti gli studenti del liceo scientifico Razio Tedone di Ruvo di Puglia, insieme con i laureandi in economia aziendale dell'Università Aldomoro di Bari. Grande lustro alla mattinata ha dato la presenza del presidente della piccola industria Alberto Baban presso la ITEL Telecomunicazioni di Ruvo di Puglia, insieme alla presidente della piccola industria di Bari e Bat, Patrizia Del Giudice, al presidente di Confindustria Bari e Bat, Domenico De Bartolomeo, al sindaco di Ruvo Vito Nicolo Ottombrini, al rettore del Politecnico di Bari, Eugenio Di Ciascio, al delegato del rettore Università di Bari, Vito Roberto Santamato. A presentare l'azienda è stato Leonardo Diaferia, presidente ITEL Telecomunicazioni SRL. Nell'area del copoluogo pugliese ci saranno anche altri tre PMI ad aprire le porte ai vertici di Confindustria Bari e Bat agli studenti. Si tratta della Planetech, che ha ospitato gli studenti dell'Istituto Marconi, e la Torrefazione Caffè Creme, a ospitare i ragazzi dell'Istituto Alberghiero Perotti. La ITEL Telecomunicazioni è un'impresa pugliese fondata nel 1982, con sede in Ruvo di Puglia. Attualmente impiega 80 dipendenti, aventi un'età media di 35 anni. Progetta e realizza impianti per la radiologia diagnostica e sviluppa prodotti tecnologici, in particolare per il settore medicale, basati sull'applicazione delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. ITEL è impresa leader nella risoluzione delle problematiche legate alla progettazione e installazione delle apparecchiature di risonanza magnetica e di diagnostica per immagini, grazie alle proprie soluzioni tecnologiche e servizi ad alto valore aggiunto, è punto di riferimento di istituzioni locali, enti pubblici e imprese private in oltre 40 paesi.